Perché utilizziamo anche Facebook all'interno del nostro piano di marketing per vendere ville o appartamenti? Ciao, io sono Pierangelo Beretta, agente immobiliare Monza ad oltre 15 anni e in questo video ti voglio spiegare proprio perché utilizziamo anche Facebook all'interno del nostro piano di marketing per vendere le case. Facebook è letteralmente una, io la definisco una macchina infernale perché è capace di raggiungere un numero elevatissimo di persone ma soprattutto persone in target. Cosa significa in target? Significa che attraverso Facebook, attraverso gli strumenti di Facebook è possibile specificare a che tipo di persone far vedere un determinato annuncio. Si può scegliere in base al sesso, all'età, agli interessi, alla località e altre tipologie di selezioni. Specifico che questa è una tecnica valida soltanto per quegli annunci a pagamento, quindi quelli che vedi che ti appaiono come sponsorizzato. Quindi se vedi qualche annuncio sponsorizzato significa che dall'altra parte qualcuno, in base alle tue azioni che hai fatto su Facebook o nel web in generale, ha voluto farti vedere quell'annuncio perché probabilmente sei in target con quello che ha da dirti o ha da proporre. Tornando a noi, che benefici si hanno utilizzando anche Facebook per promuovere l'immobile in vendita? Innanzitutto si riducono i costi perché posso decidere io quanto spendere, a chi far vedere questo annuncio e a quante persone. Scegliendo ad esempio una categoria che va dai 30 ai 35 anni oppure una categoria che ha determinati interessi o addirittura anche persone che nell'ultimo mese hanno visitato, hanno navigato online su dei siti immobiliari come possono essere idealista, immobiliare.it, casa.it, quindi persone che probabilmente stanno cercando una casa da acquistare. Questo permette di essere molto più incisivi, molto più veloci, di far visionare la casa a molte più persone tra cui magari c'è anche l'attirente giusto che poi farà un'offerta. Ci è capitato in passato di riuscire a vendere una casa grazie ad un contatto che è arrivato su Facebook. In realtà era un amico della persona che ha visto l'annuncio, che ha girato l'annuncio a questa persona e poi da lì è nato tutto. Facebook quindi è uno strumento, una macchina come dico io, da utilizzare e da non sottovalutare assolutamente. Noi abbiamo iniziato già di diverso tempo a inserirlo nel nostro piano di marketing con, come ti ho detto prima, ottimi risultati e stiamo continuando a migliorare quelle che sono le prestazioni dei nostri annunci. Giusto che tu lo sappia, è appunto un servizio che fa parte del nostro piano di marketing per vendere gli immobili entro 100 giorni dall'inizio appunto del piano di marketing. Se vuoi saperne di più puoi mandarmi un messaggio in privato. Per oggi è tutto, io ti saluto, Pierangelo Beretta. Ciao!